Adesso parliamo di un'iniziativa che si svolgerà domani, si tratta dei giardini di emergency. Abbiamo in studio la coordinatrice regionale del gruppo emergency, Orietta Zerega. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, vorrei cominciare da una frase di Gino Strada che dice i giardini sono parte della cura. Ce la puoi spiegare? Ma sì, il giardino è fondamentale negli ospedali che emergency ha nelle zone critiche di guerra perché nei giardini, che sono belli, curatissimi, pieni di fiori, si fa spesso la fisioterapia e la convalescenza dei degenti, uomini, donne, vecchi, bambini, spesso la popolazione civile colpita. Ecco, intanto stiamo vedendo le immagini relative a giardini nei centri di emergency sparsi nelle zone critiche del mondo e dove emergency opera da 20 anni. Per questo ventennale avete pensato a questa iniziativa domani a Gressan. Che cosa c'è in programma? Sì, dunque diciamo che l'iniziativa al castello Tour de Villa di Gressan si svolgerà dal mattino alle 10 alla sera alle 18 con qualsiasi tempo e occuperà sia la parte del giardino di Gressan e la parte anche dell'interno del castello che quindi sarà visibile. All'esterno nel giardino coperti da gazebo ci saranno dei bravissimi, celebri vivaisti nazionali che presenteranno i loro prodotti, gli eredi da giardino e ci saranno anche associazioni valdostane che hanno aderito alla nostra iniziativa. Il tutto con finalità solidaristiche, cosa farete del ricavato? Assolutamente sì, tutti doneranno in tutto e in parte il ricavato della giornata che andrà a beneficio del progetto Italia di Emergency. Per questo ringraziamo tutti. Grazie mille a Orietta Zerga per essere stata.